Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, siamo qui per i pronostici sulla 21esima giornata di Serie A, la seconda di ritorno. Ci sono partite molto interessanti, molto importanti su tutti i fronti. Cominciamo subito con le partite di sabato con Sassuolo Cagliari, una partita secondo me bellissima perché due squadre che giocano a viso aperto se la possono giocare benissimo. Il Sassuolo Orfano di Boateng, appena passato dal Barcellona, lasciamo perdere perché era uno dei miei punti, l'unico forse punto forte che aveva il fantacalcio, era Boateng e lui se n'è andato. Partita aperta, mille risultati, io qua non metterai un x2, metterei solamente gol. Attenzione comunque al Cagliari, se me fa una grande partita, Reggio Emilia non è escluso che vinca la partita. Quindi gol e poi se volete giocare l'1x2 io punterei più sul Cagliari, quindi è una x2. Però attenzione, io questo quello... però ripeto, è una partita molto aperta, può succedere qualunque cosa. Sampdoria Udinese, invece qua non ho molti dubbi, l'Udinese l'ho vista giocare, fa molta fatica, la Sampdoria invece è abbastanza in palla. Credo che la Sampdoria vincerà soprattutto perché gioca in casa. Sabato alle 20.30, uno dei due big match della giornata, anzi dei tre perché io ci metto anche Torino e Inter nelle tre big match, uno dei tre big match è Milan-Napoli. Questa è una partita importantissima per il Napoli ed è importantissima per il Milan per tenere il quarto posto e... e per... ah c'è anche Atalanta-Roma, quindi è una giornata veramente ricca di partite interessanti. Milan-Napoli secondo me è una partita molto molto aperta, il Milan a Jed ha fatto capire insomma che nei big match, ma anche a San Siro con la Juve, cioè quando giochi col Milan comunque capisci che nei big match puoi avere anche una stagione fallimentare e brutta, non è quest'anno ancora il caso perché comunque se il Milan è quarto in classifica, ma un discorso generale, cioè il Milan può anche arrivare ventesimo, però comunque nei big match ti metti in difficoltà perché comunque la storia alla fine pesa in certe partite e secondo me il Milan farà una grande partita. e secondo me alla fine il Napoli vince, però non... però se devo dare... devo do l'X2 al Napoli e al Milan do gol Piontek perché secondo me è un debutto classico da gol, non so perché. Chievo-Fiorentina è una partita secondo me che è un po' segnata, nel senso che la Fiorentina potrebbe vincere anche perché il Chievo per me ha dato tantissimo contro la Juve e potrebbe pagarlo, anche se il Chievo comunque è ultimo ma non è l'ultima squadra di Serie A, cioè è l'ultimo ma non è la più scarsa, è l'ultimo per le vicende anche giudiziari che gli hanno dato delle penalizzazioni, ma il Chievo è un'ottima squadra per salvarsi e non è escluso che alla fine si salvano, anche perché insomma secondo me le rose di squadre che gli stanno davanti sono inferiori. Parma-Spal vale lo stesso discorso, metto l'uno al Parma, anche se la Spal è un'ottima squadra sempre per la zona salvezza, ma credo che il Parma abbia una marcia in più. Atalanta-Roma secondo me è una delle partite principi della giornata anche perché si decide gran parte del futuro Champions e dell'Europa, è una partita molto interessante, non saprei a chi dare il voto alla fine e darei alla Roma, darei alla Roma anche se spero che l'Atalanta faccia risultati in modo da poter arrivare mercoledì un po' stanca visto che c'è la partita di Coppa Italia, quindi mettiamo il 2 alla Roma, ma X2 Roma, ma è una partita davvero molto interessante. Bologna-Frosinone invece è lo scontro salvezza di questa giornata, insieme a Empoli-Genoma che però si giocherà lunedì, vedo il Bologna più forte, quindi metto l'uno, Frosinone sinceramente io credo che il Frosinone sia la squadra più scarsa che ci sia in Serie A e subito dopo l'Empoli, l'Empoli sta facendo miracoli a rimanere a galla, perché secondo me il Frosinone e l'Empoli sono le due squadre che più di tutte rischiano di finire giù proprio per il valore della rosa. Torino-Inter, credo che l'Inter vincerà, anche se l'Olimpico è di grande Torino, è veramente uno stadio difficile da affrontare quando vai lì dentro, perché comunque è piccolo e si sente il calore del tifoso, mi ricordo gli anni quando ci giocava la Juve che era la Juve, non dico che era a livelli del Torino, però non era una squadra da scudetto quindi c'era ancora più cattiveria nei tifosi, cattiveria sportiva ovviamente e lo sentivi perché io mi ricordo che una volta sono andato vicino proprio al bordo campo a vedere una partita e ti sentivi tutto lo stadio addosso, stessa cosa che sento allo stadium adesso quindi non è uno stadio facile giocare lì, soprattutto da quando l'ha preso in esclusiva il Torino, è diventato proprio la casa del Torino, quindi è attenzione, non è così semplice però credo che l'Inter dopo aver già fallito settimana scorsa col Sassuolo non fallirà ancora e vincerà col Torino. Lazio-Juve, io credo qua metterei, secondo me la Juve farà una grandissima partita, non so perché, credo che sarà una grandissima partita dalla Juve, la Lazio secondo me ha fatto molto male col Napoli, nonostante poi alla fine che abbia perso solo 2 a 1, ma l'approccio della partita è stato completamente sbagliato la formazione è cannata da Inzaghi e io credo che la Juve invece farà veramente una grande partita perché la Juve la sto sentendo molto incazzosa e vogliosa di fare quindi metto il 2 della Juve e anche un over 1,5 perché secondo me la Juve farà anche più di un gol non escludo un 2 o 3 a 0, proprio mi voglio sbilanciare poi magari sbaglierò e mi rifaccerete questa cosa, però stavolta mi sbilancio Empoli-Genoa, alle 20.30, il Genoa secondo me vincerà Empoli, quindi 2 del Genoa ragazzi questi sono i pronostici sulla 21esima giornata, sono andato anche un po' oltre ma mi stavo divertendo a fare qualche analisi, a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento a tutti i prossimi video, ciao!